Che cos'è un'intervista a letto con l'autore? Sono quattro minuti di domande insolite in una cornice d'eccezione, l'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, dove ogni stanza porta la firma ad un artista diverso e dove sopra ogni letto troverete un autore fanese, quindi ricapitolando un hotel museo, un letto, un autore fanese e un modo diverso per conoscerlo meglio.